Sotto indagine finisce l'intera caserma dei carabinieri di Chiari nel Bresciano per un legame nell'inchiesta Scarface che ha portato all'arresto di 14 persone il 2 di novembre per associazione mafiosa con l'accusa di riciclaggio di denaro attraverso il gioco dell'otto grazie a un sistema che poteva contare sulla connivenza di gestori di bartabaccherie e ricevitorie che segnalavano le vincite. 29 le persone che erano finite sotto indagine in varie province tra cui Cremona, Brescia e Bergamo anche in questa attività conseguente all'operazione che ha un'indagine interna all'arma dei carabinieri è risultato centrale il ruolo di Francesco Mura imprenditore del settore televisivo ritenuto regista delle operazioni fraudolente per il riciclaggio di denaro e legato al clan dell'Andrangheta a Barbaro Papalia. Tra gli arrestati nell'attività di indagini erano finiti infatti anche l'ex comandante della polizia stradale di Chiari e un carabiniere dello stesso paese della bassa bresciana, entrambi accusati di corruzione per aver intascato soldi e regali proprio da Mura. A pubblici ufficiali e a un magistrato della procura di Brescia l'imprenditore avrebbe offerto biglietti per assistere alle partite della Juventus e per il concerto milanese di Beyoncé. Sotto la lente finiscono i rapporti amicali, gli scambi tra Mura e i militari, tanto che stando a quanto si legge nelle 2082 pagine di informativa depositata in procura, la caserma era frequentata da Mura con inconsueta e anomala frequenza, che certamente stride con la sua pregressa situazione penale per una sentenza definitiva di condanna per traffico di droga. Ma non è tutto, l'imprenditore Mura avrebbe acquistato i condizionatori della stessa caserma. Secondo l'indagine dell'arma in corso, anche sugli stessi colleghi militari, Mura intratteneva contatti con i carabinieri infedeli in cambio di protezione e informazioni utili alla sua causa. Ora l'arma sta valutando le posizioni dei militari non coinvolti penalmente, però punibili disciplinarmente.